Fere, ma come ti sei vestito esattamente? Uguale a te! Uguale a me? Sì, esatto, uguale a te! Fere, perché ho questi vestiti? Spiegami immediatamente perché mi hai cambiato i vestiti, Fere! Perché oggi dobbiamo andare a fare tante tante cose che riguardano col bunker e sinceramente mi sembravano molto adeguati per il tipo di missioni che dobbiamo fare, non ti piacciono? Non lo sono per nulla, fanno schifo, Fere! Hai un gusto terribile! Guarda, io non faccio nessuna missione vestito così, Fere! Cambiami i vestiti o rimango qui a dormire! E ragazzi, come va? Io sono Fere Vicky! E io sono Stef, che si chiama GTA V! E siamo qui prontissimi e siamo tornati nel nostro bunker, ovviamente! Oggi cercheremo di vendere tutta la merce che abbiamo accumulato e che sono ben 65.000 dollari di valore! E con questi soldi, ovviamente, cercherò di comprare il centro operativo mobile! Così ho un sacco di cose e tu non hai ne niente! Voglio dire un po' di cose prima di tutto! Grazie Consolini perché nel sondaggio avete fatto vincere la moto che vola e il prossimo episodio sarà dedicato a quello! Preparatevi perché Stef volerà nel cielo! Abbiamo 65.000 dollari di merce da vendere con un server pieno zeppo di armi militari e mortali che ci andranno addosso e non appena capiranno quanti soldi stiamo trasportando! Quindi, felicità! Sono prontissima insieme a te a morire Fere! Vai, facciamo partire questa missione! Scegliamo la più difficile! Ho due missioni! Ok! Una che vale appunto 65.000 dollari, cioè il valore della merce nostra che abbiamo accumulato e una che ne vale 97.500! Uuuuh! Quindi, c'è, è davvero tanto, tanto, tanto in più, quindi che dici? Quale facciamo? Uuuuh! Allora! Non lo so! Sei tu il capo, quindi scegli tu perché sennò poi mi dai le colpe! Io direi che nel momento in cui siamo qui e rischiamo anche per 65.000 direi di rischiare bene, di rischiare proprio alla grande, che ne dici? Perderemo tutto! Vado, vado! Ok, già con un blindatore del genere sto un po' più tranquillo! Eh, ma sicuramente saranno super lenti, vero? Ah no, 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 sono belli veloci! Io devo portare le mie armi a 4,20 km da qui! Non so tu dove li devi portare, sicuramente saranno due posti diversi! No, invece lo sai che mi sa che sono gli stessi? Ah sì? Fammi vedere la mappa, sì, stesso posto! Corri, corri, tra 20 secondi la gente saprà dove siamo! Pere, perché un elicottero dietro? Eh, non lo so! Allora, ogni volta che sto facendo queste missioni, anche per portare le scorte al bunker, ho sempre elicotteri dietro! Non so perché il gioco... Oh, ma ne ha ammazzato uno! È caduto dall'elicottero! Davvero? Ma come hai fatto? Oh mio Dio! Con la pistola così sparando! Corri, fare! Ferre, abbiamo un player davanti, abbiamo un player davanti che ci sta chiaramente mirando! Stai attenta, Ferre, stai attenta! Non possiamo perdere questi soldi, altrimenti non ci esce il nuovo... Come si chiama? Centro operativo mobile? Sì, sì, io direi di cambiare strada! No, vado dritto! Io cambio strada! Ferre, non lasciarmi solo! Cambio strada! Cambio strada! Oh! Oh mamma mia! Che ti sta succedendo? Schiva! Oh mamma mia! Ferre, era con lanciamissili, fermo ad aspettarmi! Mi ha colpito con un lanciamissile ma mi ha preso il rischio e non sono esploso! Per quello ho cambiato strada e credo di aver dietro un consolino, quindi mi sento un attimino un po' più tranquilla! Il secondo l'ho schivato! Io non ho parole! E ho ancora l'elicatore alle calcagne! No, no, no! Ma perché ogni volta ci sono missioni così difficili? Sono bassissimo di vita, sono quasi morto! Oh no, mangiati qualche snack! Mangiati qualche snack! Sono quasi arrivato al punto! Continuo a correre a massima velocità e cerco di sopravvivere così! Ok, 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 dai ce la possiamo fare! Ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta? Arrivo, 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 arrivo! Sono dietro di te! Ok, me l'hai fatta e fatta, credo! Ok, dove? Dove devo andare? Qui, Fere! Qui dove sono io? Qui dove sono io? Ma dai! Consolino, però non mi dare colpi! Veloce, Fere! Apriti! Butto giù l'elicottero! Basta, basta! Lascia la zona! Ottimo, ottimo, ottimo! Scappiamo, scappiamo, scappiamo! Io ho buttato giù l'elicottero! Cerca qualche veicolo! Cerca qualche veicolo! Chi mi sta sparando? Non lo so! Farò zigzag! Tu cerca qualche veicolo per scappare! Dobbiamo... Consegnato! Yes! Ti ho dato tutti i 93.000? Eh, no, mi ha dato 105.300! Ah, anche un po' di bonus! Probabilmente qualche bonus, sì, sì, sì! Perfetto! Ho i soldi giustissimi per... Dimmi quanto? Per il centro operativo! Non mi ricordo, ma il nome neanche io! Stef! Sì! Guarda cosa ho comprato! Lo vedo, Fere! Oh, non ci credo! I soldi giustissimi sono povera adesso! Sono povera, ma ne valza la pena! Oh, sei già... Ah, sei già dentro? Sono dentro, ok! Io ancora no! È vuoto! Eh, vabbè! Aspetta, aspetta, aspetta! Vieni qua! Vieni qua! Ma io penso che avesse qualcosa! No! Devi comprare tutto! Non hai nulla! Praticamente non hai nulla! C'è la possibilità di comprare diverse cose! Ma tu non hai idea quanto costano, non hai idea! Ho delle missioni! Ok! Facci capire un po', facci capire un po'! Allora, mi dà due missioni disponibili! Ok! Ok! Perché penso che ci facciano guadagnare qualcosa! Perché le altre poi le vedo da sbloccare! Ok! E c'è Forti Precipitazioni e Half Track alla riscossa! Quale ti ispira? Eh, sono tutte e due belle! Sto leggendo una serie! Andiamo di Half Track alla riscossa! È un veicolo fighissimo! Se ce lo fanno utilizzare è strabello! Ma dobbiamo andare in una barca normalissima! Io mi aspettavo di dover utilizzare quel camion! Allora, Steph! Basta lamentarti! E ti lamenti che è tutto a vuoto! E ti lamenti della missione che dobbiamo fare! Non abbiamo neanche iniziato! Io lo so che sei geloso! Ma smettila di lamentare! Allora! Basta! Vedremo chi è geloso nel prossimo episodio quando io potrò volare in tutti i cieli e tu sarei lì a terra col tuo camioncino che è pure vuoto! Ti guarderò e ti saluterò e cercherò di prenderti con i missi! Ha pagato un milione e due la cosa che ha due poltroncini in croce pure brutte! Eh, ma lo sai! È come il bunker! Sono vuoti e poi vanno migliorati! Che rimarranno voti per sempre come il tuo cuore! Cosa hai detto? Non ti ho sentito! Che rimarranno voti per sempre proprio come il tuo cuore, Fer! Cosa c'entra? Cosa c'entra? Allora, siamo quasi arrivati! Io spero che dobbiamo davvero prendere quei camion bellissimi perché hanno delle mitragliatrici super fantastiche! Eh, lo spero! Per ammazzare tutti! Bene! Scendiamo! È pieno di persone! Seguimi, seguimi! Ho un piano per non farci scoprire! Ah, non lo so! Scendi piano, 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 piano! È ok! E sali su questa piattaforma! Ok! Ok, vedi che ci stanno cercando? Ok! Allora, abbiamo delle armi con il silenziatore? Forse è la K! Sì, sì, sì! L'avamo presa! Aspetta, 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 aspetta! Vai! L'ammazzo? Eh no! Lascialo vivo e facci prendere! Vai! Ok! Il primo è morto! Non se ne è accorto nessuno! Abbassati! Vedi che lì ci sono due insieme in quel veicolo? Sì! Ah, eccoli sì! Aspetta! Ok, io ammazzo quello che risulta alla destra! Quindi il più lontano! 3, 2, 1! Perfetto! Ok, ok, bravi, sincronizzati, bravissimi! Avanziamo, Ferè! Vai, 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 vai! Allora, i veicoli sono lì! Uh, aspetta, c'è un'altra guardia! Ok, aspetta, mi metto qui dietro! Allora, 3, 2, 1! Ok, è morto! Ok! Perfetto, adesso qua, 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 qua! Dove sono gli altri? Dove sono? Allora, qui è la parte più difficile, secondo me! Perché qua mi sa che sono... Eh, sono tutti ammassati! Davvero, davvero, davvero tanti! Lì ne vedo due! Allora, fai maglietta blu! Ok, 3, 2, 1, vai! Ok, ottimo, 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 ottimo! Avanziamo, 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 avanziamo! Allora, se ne presi l'obiettivo, usa gli strumenti di violazione su cui lo serve per entrare! Tipo? Fin che la violazione non sarà completa, sarai vulnerabile! Allora, non dirmi che uno deve violare qualcosa e l'altro deve uccidere tutto! Allora, a me dice raggiungi un half track a te! Anche a me, anche a me! Allora, io direi che ne massiamo altri due o tre e saliamo sul veicolo e facciamo proprio un casino incredibile! Ok, ottimo, ottimo, ottimo! Allora, aspetta, 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 aspetta! Ah no, dobbiamo hackerare le portiere, vedi? Oh no! Quindi, allora, uno sicuramente lo fa e l'altro copre! Io diri di farle in questo modo! Ok, perfetto, ne mancano poche! Dovresti avere tutto il tempo del mondo per hackerare, Fere! Io vado, io vado! Ok, fammi sapere se è difficile! Che ansia! Allora, mi mettoni! Mi fanno scoperto mentre hackera! L'hanno scoperto! Ok, stanno arrivando tutte! No! Fere, puoi smettere di hackerare? Sì, 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 sì! Ok, smetti e spara alle persone! Ok! Ne sto ammazzando il più possibile! Ma che cavolo, mi dovevi coprire tu! Era così la missione! Fere, pensavo che non partisse un allarme! Certo che parte l'allarme! Ti ho detto che sarei vulnerabile, era ovvio! Non l'avevo capito, Fere! Oh mio Dio, è pieno di persone! Lo so, Fere! Steff, aiuto, aiuto! Mi ho ammazzato almeno dieci! E ti sto dando una mano anche qua! Allora, continuo, continuo, continuo! Ne abbiamo... No, sto morendo, sono morto! Sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi! Aia, mi devo riparare! No, ma non ti potevo dare una mano, è impossibile così! Lo vedi quanti sono? Sì, 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 sì! Allora, mi copro e provo! Allora, io penso dietro! Mi ho ammazzato tantissimi, lì come va? Mi ho ammazzato parecchi pure io! Dimmi che ce la fai! Sì, 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 sì! Ok, ammazzati altri! Ok, questo... Aspetta, 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 devo trovare... Ecco, ecco lì, ecco, vi vedo, vi vedo! Allora... Ferre, stammi vicino e provo ad hackerare io, ok? Ne ho buttato giù tantissimi! No, 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 ne ho uno qui davanti, non posso venire da te! È il momento di farlo, sennò arrivano all'infinito! Ok, vai, vai, vai! Aspetta, Ferre! Che dici? Ma io son salito! A me segnava che avevo hackerato tipo a metà! Ok! E non so perché adesso sa... Vabbè, meglio così! Ferre, non hai un tasto per poter andare in quella mitraglietta dietro cattivissima? Eh... non lo so! Ferre! Ce l'ho fatta! L'elicottero, l'elicottero sopra di noi Vado, vado, vado Vai Aspetta, non posso sparare così tanto in alto, eh Calmiamoci qui Sì, 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 sto cambiando strada perché ci sono posti di blocco ovunque, Fer Ok, ok, ok È il tuo momento Ce l'ho fatta, esploso, esploso Hai sempre segnato queste cose Mi raccomando, ammazza tutti Sto buttando giù tutti gli elicotteri Allora, aspetta che passiamo qui sotto Ok, ottimo Sto inventando strade per non farci ammazzare perché io sono anche basso di vita e non possiamo più morire Questa missione è la più bella della mia vita, te lo dico Allora, davanti a noi, davanti a noi, vai, Fer, bombardalo Ok, ho ucciso il conducente, quindi dovrebbe calcare Bravissima, un altro, un altro, un altro qua Ok, ok Vai, Fer, dimmi che la mazzi Sì, ce la sto facendo Eh, vabbè, un po' eccessivo qua Le macchine dietro di noi Aspetta, la macchina Quali sono? Io sto ucciso Questa, 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 ok, perfetto No, no, no Tu pensa a guidare, tranquillo, ce la sto facendo, vai, uccisi, uccisi, uccisi Sì, ma non ho idea Abbiamo altre delle macchine Le macchine, oh, mamma mia Vabbè, sparo anche io un po' Fer, abbiamo un posto di blocco davanti a noi Fer, fer, fer Come? Vai, 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 vai Sì, ma è da folli questa missione Sono bassissimo di vita Se mi danno anche solo due o tre colpi sono morto Ma siamo sicuri che era da fare, tipo in due Perché davvero... Ok, io sto uccidendo tutti comunque, tranquillo Ok, ok Siamo a un chilometro e mezzo di distanza Abbiamo un bel po' di elicotteri davanti Ce la fai a mangiarti snack per recuperare vita? Non credo di averne Sì, ne hai quando uccidi le persone Ok, inventario, snack Ma dimmi te se devo mangiare mentre scappo Sì, 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 sì Allora, mangio, mangio, mangio Vai, 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 vai Ok, sono full Perfetto, perfetto, perfetto Stef, ci ammazzano Fer Dai, muoviti È difficile da guidare Non so perché, ma va lentissimo È più lento di un autobus Comunque siamo a 800 metri di distanza Ok, dai, ce la facciamo Però dobbiamo passare da queste stradine di montagna Che non sono l'ideale, Fer Lo so, le vedo, le vedo, le vedo Oh, per ora non c'è nessuno Non dirlo Libera, via libera Non dirlo mai Ti ho detto per ora Ti ho detto per ora non c'è nessuno Quindi vai Ah, dai Ciao belli Ecco il vostro camioncino Ciao, ve l'abbiamo portato Tutto per voi Quanto ci pagate? Fer, quanto ci pagavano per questa missione? Non ne ho la più pallida idea Non me lo diceva Ce l'hai accettata così a casa Se ci danno 5 euro? No, secondo me ci danno tanto, dai Allora Lo spero È stata una bella missione Vediamo A me hanno dato 13.000 Anche a me è uguale Ok, quindi il pagamento è uguale per tutti Sono anche quasi arrivato a livello 50 Devo dire che per tutto quello che abbiamo fatto 13.000 non è proprio... Vero? Eh, mi aspettavo qualcosina in più Sei com'è? C'è stata parecchio complicata Eh, sì Quindi, però dai Almeno ce l'abbiamo fatta Almeno tutti si è divertita a mitragliare tutto Moltissimo È stato bellissimo Io invece tutto Solo guidare un camion lento è scomodo Però almeno tutti si è divertita e sono felice Andiamo in giro con un camion piccolo piccolo Io direi che non stiamo dando nell'occhio In mezzo alla città così, vero? Vero? Cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia Mi sembra normale Però è bellissimo che te ne puoi andare in giro Ti metti, poi dici Ah, voglio fare una missione Metti, ti vedevi dietro La V, bellissimo Sì, allora comunque la missione che abbiamo fatto Praticamente sblocca il prezzo minore Per comprare il veicolo che abbiamo utilizzato Quindi l'Alftrack Adesso l'Alftrack lo possiamo comprare al prezzo scontato Altrimenti dovevamo pagarlo un bel po' di più Quindi queste missioni servono appunto A far pagare tutti i veicoli un pochino meno Non tanto meno Anche perché qua, allora, col prezzo scontato Costa sempre un milione e sei e novantacinque Quindi quasi un milione e sette Non sono proprio pazzeccole Esatto, esatto Non è che sono soldi che hai tutti i giorni Guarda Gli ho spesi tutti Non posso comprare neanche il veicolo Io ti dico, la moto la pago a prezzo pieno Perché se li merita Non me frega proprio No, la moto, guarda Forse è l'unico veicolo che merita davvero No, 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 no Allora, guarda Ti faccio vedere Dimmi, dimmi, vai Questo qua Allora Non so se vedi bene dal mio schermo Più o meno Ah beh, sì, sì, sì Ha senso Capito? Ha senso E quindi credo che proprio questo apc Quando lo modifichi diventa una bestia Cattivissima Allora dovrò farmare i soldi Quanto costa col prezzo minore? Due milioni e qualcosa? Due milioni e tre Eh, vabbè Però ma ci metterò una vita a farmi due milioni e tre Direi che ci possiamo fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Il prossimo, come già vi abbiamo detto Sarà con la super moto che vola Sì, sì, sì Preparatevi a vedermi sfrecciare da una parte all'altra Volare, spaccarmi la faccia E morire miseramente Però sarà un episodio bellissimo Giusto Fere? Sì, assolutamente Lo sai che tu purtroppo non puoi salire? Facciamo proprio Eh, lo so, lo so che è un posto Però facciamo Sì, fanno tutti un posto Sì Bellissimo si può fare Ovvero che tu sfrecci nel cielo E vediamo se riesco a farti esplodere con un lanciamissile Fere È bellissimo Costa tre milioni e mezzo Non la puoi far esplodere Cioè, sì che posso No, non mi piace per nulla In ogni caso ci fermiamo così per questo video Speriamo che appunto vi sia piaciuto Lasciate tanti like sul commento sondaggino E ci vediamo domani Spero che si è riusciti Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Questa è la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao, ciao